Salve, la domanda di oggi io la sento molto vicina la mia coscienza e mi chiama a conversione, dice così perché le omelie spesso sono noiose? Purtroppo è vero, no, spesso le omelie sono proprio noiose io a volte devo sentirmi qualche omelia di qualche confratello quando concelebriamo ho difficoltà a stare sveglio immagino la gente, o quando predico io io quando vedo che la gente comincia a crollare dal sonno cerco di tagliare e finire subito perché le omelie sono noiose? Allora, prima di tutto perché i preti spesso non si preparano e quindi magari scaricano qualcosa da internet mettono insieme cose strane oppure a volte pensano che sia una specie di lezione universitaria di teologia molto di moda quelli che hanno studiato la Bibbia che cominciano a fare esegesi biblica, diciamo tecnica oppure catechismo ma non è, omelia non è catechismo anche c'ha elementi catechetici sempre importanti istruzione senza, però non è quello insomma, oppure prediche dicono le loro idee sociali, politiche di qualunque cosa che non c'entra niente con la parola di Dio le omelie sono spesso noiose perché non seguiamo Gesù Cristo c'è un'omelia di Gesù nel Vangelo lo sapete, no? nel Vangelo di Luca l'Evangelista riporta un'omelia di Gesù Gesù entra in sinagoga di sabato si leggono due letture nella sinagoga a lui fanno leggere la seconda gli fu dato il rotolo del profeta Isaia aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con l'unzione legge il passo di Isaia riavvolse il rotolo lo riconsegnò all'inserviente e sedette allora sedersi stava seduto sulla sedia importante al centro della sinagoga cioè doveva fare l'omelia nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato questa è l'omelia di Gesù credo che sia una sintesi però è molto breve molto chiara ha letto un bellissimo passo di Isaia dove si annuncia il Messia il liberatore colui che ridà la vista ai scechi che risana gli zoppi e così via che proclama l'anno di misericordia di grazia del Signore dice oggi questa scrittura che avete ascoltato si è compiuta allora il Signore ci insegna nell'omelia ci devono essere tre cose e quando leggi tu la parola di Dio devi cercare tre cose la prima cosa la parola di Dio è una buona notizia sempre quando tu leggi il Vangelo o un altro passo della scrittura e non vedi la buona notizia rimanici finché non la trovi c'è sempre la buona notizia primo una buona notizia per la tua vita non una buona notizia in America hanno scoperto il petrolio la buona notizia è la tua vita c'è vita per te c'è gioia c'è una felicità pronta per te e poi oggi questa parola è importantissima oggi che la parola di Dio ti viene incontro oggi sai quando hai capito la parola di Dio quando l'omelia funziona quando la senti per te questa parola quando ti interroga quando ti mette pure un po' in difficoltà ma oggi e poi il terzo elemento oggi si è compiuta chi la dice? Cristo cioè la parola di Dio è legata alla persona di Cristo entri in relazione con Lui la vera parola cioè l'omelia a questo serve a rimetterti in collegamento in relazione con Gesù vivo e presente nella nostra vita infatti normalmente le omelie si fanno la domenica alla messa perché dopo c'è l'eucarestia quella parola che hai sentito che è una buona notizia che si fa carne nella tua vita si fa carne sul serio attraverso il sacramento dell'eucarestia ecco questi sono i tre elementi che non dovrebbero mai mancare che Gesù ci insegna perché un'omelia funzioni ti benedica il Signore e ti protegga grazie a tutti